ok abbiamo ottenuto la moneta fortunata Sam c'è wow Sam dice wow ah qui siamo John guarda John pericolo pericolo fognatura non so se è gas respirabile aspettatemi interessante come corre cos'è questo posto Jasper qui non posso non lo so nemmeno io ogni notte posso sentire dei strani rumori tipo sfiati insomma ci sono dei tubi allora può diventare così rumoroso che ho bisogno praticamente di usare il mio molestatore notturno per bloccarlo com'è che lo usa se li metta nelle orecchie strappa il posto se li fina le orecchie cosa che fa oh molestatore notturno John andiamo a esplorare non si sa mai magari ci porta fuori questo ripeto il mio molestatore notturno si sposta qualcosa in realtà vedete così bomba però sono dei blocchi poi possiamo salvare ma in realtà possiamo anche cucinare in effetti proviamo a vedere cosa salta fuori vediamo che devo fermare passa ancora un po' più veloce ma che cazzo non è questa cosa qua si può capire allora bisogna scegliere ingredienti e già sono due combinazioni infinite e in più dobbiamo anche fermare al momento giusto ok questo fa recuperare i quattro cuori ma siamo pieni adesso con estrema calma il gioco anche salvare ogni volta bisogna rileggere queste cose è un gioco da prendersi con calma proprio è che tu li amazzi questi ma in realtà si ok puoi recuperare un po' di sale punti e speranza non esistono io credo quindi quindi posso te la ah ok 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 forse possiamo sì possiamo darci il cambio guarda qui è più come adesso ok 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 un sacco di in questo momento qua mi fa ovviamente anche che si chiama un gioco in cui guidavi un mostro praticamente anche quello l'avevo preso poi un sacco di indie quest'anno stanno uscendo veramente ultimamente tanti indie interessanti fatti bene non gli ultimi due anni sono delle buone annate facciamo passare lì adesso ah con lei non è che può fare qualcosa controllo un attimo un attimo se lì non l'ho guardato magari ah ok sì un attimo non è avuto il dubbio non è avuto il dubbio adesso devo fare usare lui il dubbio non è avuto il dubbio un attimo non è avuto il dubbio non è avuto ilady è avuto il tempo ... ... ... ... ... ... ... se lo mangia un scavatore qua qui la grafica ricorda un po in metà slug anche qua da l'impressione che si possa rompere quei blocchi non 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 qua il cuore non ci sta più dando eh non è che si diventa una prassi forse all'inizio era qui si passa qua no erano anche cose temporizzate si fa molto gioco 16 bit ma l'amica aveva mi ricordo l'amica serve a fare una cosa di retro gaming sulla l'amica perché c'era veramente tanti quei giochini carini poi mi mettono solo tipo switchblade qua un pochino per willow ce n'è un sacco facciamo con la bomba aspetta 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 non si può sculpare come quello ha detto gruppo un gruppo dice b ma io l'apremuto non ha fatto niente che c'è per ora mi sembra che ci voglia la pubblicità si va che qua se sbaglio ok 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 però non ci fa fare ancora questa cosa ok Sì Grazie a tutti. Allora, mi pensavo che ci possiamo passare sul segreto, ma quando qua non è così. Allora, mi pensavo che ci possiamo passare. Molto un gioco di altri tempi, non solo nella grafica. Ma scusami, ma quelli sono i cosi dove... Ah, escono forse quelli. Ah, c'entralo. Eh sì, infatti escono questi. Ah, c'entralo. Ah, c'entralo. Qua? Non è strano anche. Tre gettoni. Qua c'è una più grossa. Spara agli altri. Qua c'è? 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 tre uova non sono no, non sono in team forse c'è un passaggio lì bisogna allinearsi a loro niente, prima andiamo quattro ah, forse intende il quarto però quattro forte, cioè deve essere quattro th vediamo qua se lo facciamo ah, potremmo lasciare giù la bomba perché c'è il ritardo, no? l'uscita John, guarda l'uscita si è congelato il tempo John? non lo farei io non lo farei se fossi in te cosa? Cira? ancora te? vai fuori la mia vai fuori la mia sguarda non voglio di ascoltare non ti voglio più ascoltare cosa che ha fatto ah perché se ne devo andare devo andare dietro a lei se qualcosa su dovesse succederle John si trova ah, John teletrasporto dal suo punto di vista no? si va di qua John eccomi qua John per venire qua John ho capito venire qua come qualcosa ah no aspetta aspetta bella fregatura allora facciamo una cosa spostiamo un attimo dentro questo cosa fa invece tirare la linea così questa la linea così ok ok c'è qualcosa giù la missa quindi proviamo a usare di nuovo lei le riesce lanciarsi qua non che ci passa semplicemente vediamo un attimo ok fanno il giochetto e separare ok 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 via oh eh stavo cercando di solito ce l'ho rotolata su quel tasso è venuto per sbaglio eh ok 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 ancora non possiamo riunirci ok 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 ah questo è tanto l'hai molti stop ok 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 Oh, no. Dovevo prendere una pivota No, 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 no Mi sono fermato proprio dentro nel range Continuo a trovare queste parti E' bella lunga una strada Questa roma Questa roma è una strada Io sono in pericolo Qui è meglio Per la prima volta usare Questa roma è una strada Questa roma è una strada Ok, siamo riuniti Questa roma è una strada Ok Sarà l'acqua evidentemente Non è sufficiente immagino Questa roma è una strada Questa roma è una strada Questa roma è una strada Altri tre Ok Ok Qui siamo in zona Non ci da combattere Quindi non possiamo usare la padella Questa roma è una strada Ma dai Siamo praticamente nella casa del sindaco Un passaggio segretto Un passaggio segretto da casa del sindaco Com'è mai Com'è mai Com'è mai Com'è si può andare giù Da Fisci o no Un attimo forse Bisogna tirarlo di qua Sì Però in realtà ci si Cioè Visivamente sembra che ci si passasse Questa è la casa del sindaco John siamo tornati indietro Pure qua Questo dovrebbe essere Dove il sindaco Tiene tutti i suoi segreti Più sporchi John John Ma io l'ho fatto così a caso adesso John Non riesco ad aprire Questo è il posto E sembra come se manchi qualcosa Il passaggio segretto Ah qui possiamo coprire qualcosa Magari dovevamo venire qui Però non lo so Niente questo Vabbè Vabbè Andiamo a refilla E 5 fuori Prima salviamo Prendi ti Prendi ti Prendi ti Prendi ti Prendi ti Grazie a tutti.